Ma partiamo dalla strettissima attualità, dopo il vertice di lunedì sera tra Conte e Salvini e Di Maio l'esito è stato il vertice è andato bene, il governo va avanti, è un segnale positivo considerato che Conte e il ministro dell'economia a Tria si stanno rivelando degli europeisti convinti? Fabio Dragoni? Se sia un segnale positivo non lo so, era un segnale atteso, nel senso che sono in pochi ad eccezione di Matteo Salvini quelli che hanno l'interesse a far cadere questo governo, quindi soprattutto alla luce di quello che è stato l'esito del voto a maggio. Quindi non mi aspettavo segnali diversi rispetto a queste. Quindi è un dato da cui bisogna partire, continuo a ritenere improbabile che questo governo possa cadere nell'immediato, continuo a ritenere altrettanto improbabile che questa legislatura muoia di morte naturale, anche perché se morisse di morte naturale questo Parlamento dovrebbe nominare il nuovo Presidente della Repubblica. Quindi la mia sensazione è che la legislatura non arriverà alla sua fine naturale. Del resto è stata una considerazione che ha condiviso con me in un'intervista anche Gianluigi Paragone, prima delle elezioni europee, poi pochi giorni prima delle elezioni europee, in cui Gianluigi ha detto, mi ha confessato candidamente la sua analisi da giornalista, non c'è nessun interesse a voler far votare, nominare il nuovo Presidente della Repubblica a questo stato del tempo, dove il tempo 5 Stelle ha una forza così ampia. Quindi io mi aspetto che questa legislatura non muoia di morte naturale. Però non si va a votare ora, secondo me non si va a votare neanche a settembre e consideriamo che comunque sei mesi cambiano completamente lo scenario, cioè a marzo 2018 noi commentavamo una rivoluzione o supposta tale che nulla è rispetto a quello che abbiamo visto nelle urne due settimane fa. Quindi come vedete cambiano scenari in maniera apocalittica. Veloce e in continua evoluzione. Amodeo, è un bene che questo governo vada avanti? Assolutamente è un bene che questo governo vada avanti. La questione di Tria non mi meraviglia che sia un europeista convinto. Anzi, noi sappiamo bene che quando è nato questo governo ha annuncio il veto su Savona per le posizioni contro l'euro, ma in realtà questo è quello che ci hanno fatto credere, ma il veto su Savona è arrivato perché quelle posizioni anti-euro arrivavano da un personaggio come lui che è interno all'establishment, che ha voluto questa moneta unica. Quindi una persona che ne conosce perfettamente i meccanismi e quindi è più pericolosa sicuramente rispetto agli altri. Sappiamo che tutte le grandi associazioni sono state distrutte dai famosi pentiti, cioè da chi conosce le dinamiche interne e decide a un certo punto di denunciarle. Quindi questo è il motivo per cui hanno fatto fuori Savona, non cerco solo per le sue posizioni e oggi la verità di quanto vi dico è dimostrata dal fatto che addirittura al posto di Savona metterebbero Bagnai, che ha scritto due libri contro l'euro e che è stato l'europeista più famoso del web. Quindi non sono le posizioni anti-euro che fanno paura all'establishment, ma fanno paura a chi conosce quello che io definisco il cartello finanziario europeo dall'interno. Oggi ho letto che Moscovisì qualche giorno fa, anzi forse ieri per la precisione, ha dichiarato che Tria sa bene che cosa deve fare. Questo è un chiaro segnale. Tria sa benissimo quello che deve fare, è stato messo lì a posto. Il fatto che lui abbia addirittura creato posizioni ai minibot, che sono una misura indispensabile per il popolo che lui dovrebbe rappresentare e che invece vuole fermare questa misura per gli interessi del cartello finanziario europeo, la dice lunga, su quello che tutti noi interni, quindi Fabio e sicuramente anche voi sappiamo bene qual è il ruolo di Tria, però probabilmente chi ci ascolta ha avuto fiducia in quel ministro in questi giorni e quindi è giusto ora far emergere quelle che sono le anomalie del suo operato. Chiarissimo. Giancarlo, è bene che vada avanti il governo? Beh, velocemente è bene che vada avanti se fai qualche cosa per difendere soprattutto l'Italia. Quindi la prima cosa che deve fare è andare avanti dritta con i minibot. Grazie.